un saluto a tutte e tutte dalla vostra bibbi eccomi tornata in un nuovo video in cui volevo farvi vedere due bellissimi kit che mi sono arrivati e volevo anche mostrarvi come utilizzarli quindi farò delle decorazioni insomma strada facendo per setappare il tn che ho realizzato ma non mi perdo in chiacchiere e vi mostro subito il contenuto del primo kit che ho acquistato partiamo da questi adorabili pinguini che mi hanno letteralmente conquistata e che sono stati realizzati da Maurizio e Monica quindi Mauri e Moni sicuramente già li conoscerete perché hanno un canale youtube che si chiama Mauri e Moni dove realizzano dei bellissimi video haul di Tiger, dei plan with me, dei video unboxing di acquisti fatti da creative italiane e hanno anche uno shop Etsy che si chiama sempre Mauri e Moni dove appunto ho acquistato questo kit allora da che cosa è composto questo kit? questo kit è composto, vediamo subito, da questi quadratini di gomma crepla glitterata ovviamente ovviamente i riflessi si sprecheranno e viva comunque questi, oddio che carini che sono perché poi è una gomma glitterata ma piena di riflessi che non so se percepite ma insomma che carini, sono carinissimi per andare insomma a decorare le nostre agende poi abbiamo i pretagliati che sono tanti e ve li mostro abbiamo questo pinguinetto che pesca il cubetto di ghiaccio quest'altro pinguinetto che praticamente spunta fuori dall'acqua un altro pinguinetto semplice diciamo così il pinguinetto con la sciarpa che sorride la stellina l'iglue femmina con le stelline l'iglue maschietto con i cuoricini poi abbiamo stay cool giustamente e l'altro pinguinetto poi abbiamo il pinguino io ogni tanto devo dar retta anche ai gatti che mi si strusciano sotto e quindi poi dopo è come si fa, si perde il filo perfetto allora abbiamo questa clip con il pinguino madonna che carino con la sciarpina praticamente in cartoncino plastificato penso sia così dietro nero che carino giustamente il pinguino è nero lo stesso ragionamento che ho fatto io con la mia clipina col pinguino e poi abbiamo gli stickers allora gli stickers sono due fogliettini no ma mi piace proprio la forma di questo pinguino secondo me è troppo 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 tenero vedete che carino questo bannerino con le stelle e poi il secondo fogliettino che carino tutto colorato guardate che carini questi cuoricini così un amore un amore proprio e poi abbiamo io questo guarda questo è un omaggio io quando l'ho visto sono rimasta proprio sono simpaticissimi e io ho anche una mezza idea guarda che carina pure la carta sotto che non si cioè non si spreca assolutamente non si butta via niente guardate che carini questi pinguinetti uno sopra l'altro e questo questi qui li utilizzerò per fare una cosa ma andiamo per per gradi poi abbiamo le carte che sono due io ovviamente avevo già scartato tutto perché non potevo cioè non scartare tutto quindi ovviamente sono due carte che ce la faccio ce la posso fare sono stampate fronte e retro e sono con questa fantasia è carina e poi dietro questa e abbiamo un intruso se si vedete non so no forse non si vede perché c'è lo zoom merlino tu niente mamma pure tu non ce la fai a risenza di mamma che carino i fiocchietti di neve eh sono entrata in fissa io stavolta avevo fiocchi di neve altro che e poi quest'altra che pure questa è carinissima cioè con tutti questi glue e i pinguinetti cioè no vabbè è tanto carina perché poi ci sono tutti questi cuoricini tutti questi fiocchetti eh a noi ci piacciono e infatti ci piacciono poi eh mi hanno omaggiato di questi stickers che sono stati veramente eh carinissimi io li ringrazio tantissimo perché sono bellissimi sono questi beh non ve li tiro fuori perché questi insomma eh si vedono sono quelli eh utilissimi dei giorni della settimana più eh due scritte con eh weekend e anche con note ok e poi questi due che sono cioè ma sono adorabili stampante plotter da taglio eh l'agenda i pacchetti eh sì eh praticamente è il nostro la nostra passione e poi questi qui che sono più piccini e possono anche proprio fungere insomma da quelli funzionali passo a farvi vedere quest'altro kit anch'esso a tema orsi polari eh pinguini ehm ghiaccio igloo ehm io infatti ho soprannominato questo video un video artico eh infatti sentite un po' di freddo allora questo kit è stato realizzato dalle sorelle Paola e Daniela eh che hanno un gruppo facebook chiamato Planner Fan Kit dove appunto ho acquistato questo eh kit e ehm le ho nominate spesso le ho nominate spesso ehm perché sono le amministratrice anche di un altro gruppo che eh seguo sempre con piacere eh che si chiama Carto Scrap eh dove potete ehm condividere dove potete trovare tantissimo ehm materiale tantissimi spunti eh per la nostra passione eh scrapposa per la nostra passione eh insomma per i planner per i traveler per tutto ciò che riguarda un po' questo mondo bellissimo appunto del planner eh quindi eh e in più eh Daniela ha anche eh un canale youtube che si chiama filefox is my world ma comunque anche di loro vi lascio sempre i riferimenti giù nell'infobox dunque sono stata eh distratta un pochino da Merlino che eh veramente adesso o lo frullo o altrimenti sta buono eh allora vi faccio vedere questa clipina dolcissima con questo orso bianco con la eh clip argentata guardate che amore poi abbiamo i pretagliati che non possono mai mancare e adesso e sono allora abbiamo eh la foca bianca la foca bianca poi il pesciolino poi abbiamo il secchiello il secchio con i pesci poi abbiamo l'immancabile pinguinetto che carino poi questa volpe bianca cioè la volpe chiara vabbè bellissima poi abbiamo l'orca giusto è l'orca sì sì l'orca poi abbiamo ehm il tricheco l'altra fochetta l'altro pinguinetto la balena e l'iglù cioè sono carinissimi prima di farvi vedere queste qui faccio vedere il fogliettino di stickers dove si riprendono tutti i personaggi e con l'immancabile orsacchiotto e c'è neanche questo eh c'è anche quest'altro guardate che carino questa è la mamma e questo è il bimbo ho già deciso abbiamo queste due cosine qui queste sono praticamente delle taschine sì perché sono sono dei cartoncini plastificati dove però abbiamo la fessura per poter inserire le nostre cose quindi cioè inserire qualsiasi cosa dai bigliettini dai predagliati agli stickers questa qui invece si apre si apre da qui io questa ho intenzione di utilizzarla e dopo vedremo come per finire poi abbiamo queste due simpaticissime bamboline che altro non sono che Daniela e Paola in pratica sì perché penso che insomma se non sbaglio abbiano commissionato ad un'ansomma creativa ad un artista di disegnare queste bamboline che rappresentassero proprio loro due quindi che si tengono per mano sono secondo me sono dolcissime e quindi arriva il die cut e arriva il follettino con gli stickers delle bamboline dolcissime prima di passare al setup volevo farvi vedere la chicca delle chicche ed è per questo che ho fatto un po' di zoom perché secondo me lo merita ampiamente ed è questo qui allora questo è un bellissimo bouquet realizzato interamente in feltro sempre da Paola e Daniela e cioè io me lo lascio ammirare perché è veramente bellissimo oltre a questa rosa enorme al centro con questa perlina tutti questi diamantini le fogliettine ci sono queste cucciole di 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 rose che sono dolcissime e bellissime e io veramente non so la pazienza infinita nel fare queste cose veramente enorme è bellissimo tutte queste foglie tutti questi ulteriori petali bianchi io l'avevo chiesto proprio perché lo dovevo abbinare a questo dn quindi i colori ci stanno perfettamente dopo ve lo faccio vedere perché perché questi bouquet nascono per essere attaccati insomma all'elastico di chiusura del traveler e tanto dopo ve lo faccio vedere perché hanno una comodissima praticissima chiusura in velcro quindi si mette l'elastico si chiude e questo rimane sul sul tn e lo decora in maniera eccezionale ma adesso ve lo faccio vedere tanto passiamo al setup dunque allora quello che volevo realizzare con il kit di mauri e moni è un segnapagina in cartoncino e volevo utilizzare questa fantasia e questi pinguinetti che stanno uno sopra l'altro che sono veramente simpaticissimi e li volevo tipo mettere poi così che sporgono dall'alto una cosa del genere comunque io mi ero segnata una dimensione approssimativa sì del cartoncino da tagliare quindi tagliamo 8 cm per 15 cm di altezza e vediamo cosa esce fuori e vediamo ok questo è veramente un semplicissimo segnapagina che però secondo me fa la sua figura perché poi questi pinguinetti sono veramente troppo 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 carini poi ci ho aggiunto questi due stickers insomma è troppo simpatico mentre con il kit di Paola e Daniela volevo utilizzare questa taschina e quindi volevo realizzare una dashboard sulla quale appunto applicarla in modo tale da averla sempre a portata di mano e insomma per darle un ruolo attivo all'interno del traveler allora il mio traveler è un B6 quindi la dashboard misurerà 17,8 di altezza per 25,5 di lunghezza aggiungiamo 5 mm per poter abbracciare bene uno degli inserti A presto! Ciao! 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 Questo è il TN che ho fatto io, ovviamente quando poi fai una cosa per te è il momento che la sbagli in pieno, è certo, perché quando io normalmente quando cucio io dico sempre che vado in apnea perché sono talmente tesa, dico oddio devo fare la cucitura dritta, devo fare la cucitura dritta che bene o male un pochino ci riesco. Invece qui sono andata così e infatti praticamente l'interno, allora ho sbagliato qui quindi è andata troppo in là e soprattutto la taschina è andata per cavoli sua capito la taschina è andata proprio di qua però è mio poco male. Allora a questo punto direi di iniziare con il setup e andiamo ad aggiungere, io avevo fatto questi tre inserti, quindi avevo fatto l'inserto spese che è fatto così, poi l'inserto appunti che è fatto in questa maniera e poi l'inserto settimanale bianco che è fatto in questa maniera, quindi la settimana così intervallata da queste pagine che poi sono quelle degli appunti in modo tale da avere più spazio per poter scrivere. E comunque trovate l'album dedicato nel mio gruppo, ebbene sì perché anch'io ho aperto un mio gruppo che si chiama Le Creazioni di Bibberos Life e vi lascio il link sotto nell'info box. A questo attacchiamo la bustina che faccio io, che è fatta con sempre la similpelle bianca, con la zip, quindi possiamo andarci poi a mettere i pretagliati che sono avanzati e poi nel frattempo mi arrivano messaggi e praticamente ha l'elastico questa bustina perché io non faccio altro che andarla ad inserire così nel mio TN, così la ho sempre a portato di mano. Adesso andiamo a mettere le varie clippine pretagliate e quant'altro, vi faccio vedere queste che avevo realizzato io nell'ultima vendita, che sono questo fiocco di neve fatto con la similpelle bianca e la gomma glitterata con la jambuclip, poi questo pinguinetto che è ricamato sul feltro, qui avevo messo la jambuclip per quelle che ho venduto, ma per me ho messo quella più piccolina perché purtroppo l'avevo finite, quando sono arrivata a farmela per me, l'avevo finite e quindi ecco qui, l'ho fatto così, molto carino il suo pinguinetto. E poi vabbè, le card che avevo dato in omaggio, in verità le avevo messe tre, ma per me le ho fatte due, e il cermino, poi andiamo a mettere anche il cermino, che avevo fatto così. Grazie a tutti! Grazie a tutti Ok, il setup è completato, ecco la meraviglia di cui vi parlavo prima, vedete la chiusura comodissima e aggiunge veramente un tocco di eleganza non indifferente. Poi all'interno, qui ho messo il charm, e all'interno come avete visto ho un po' riempito con varie clippine, la carta che mi fa sempre piacere che sporge da qui, la taschina, poi all'interno ho messo questa card con questo pretagliato, e questi pinguinetti che sporgono che mi fanno impazzire, poi ovviamente magari uno li ferma con una tascina, però sono simpaticissimi. E qui alla fine mettiamo anche i pretagliati che sono avanzati, così ce li teniamo e possiamo poi fare ulteriori decori, e il gioco è fatto. In fondo, come avete visto, ho messo anche gli stickers, ecco qua, così abbiamo proprio tutto a posto, il nostro TN Artico è pronto. Che ne pensate? Fatemi sapere che cosa ne pensate, a me piace tantissimo, proprio tanto. Ok, allora io vi ringrazio per essere stati con me fino ad ora, spero che il video vi sia piaciuto, e niente, se vi fa piacere ci vediamo al prossimo, e quindi un saluto a tutti e tutte dalla vostra Bibbi. Ciao!